Il piazzale di Viale Malta dietro la questura cambia volto. Da una parte i container che accoglieranno gli studenti del Liceo Colombini durante il cantiere nei prossimi due anni scolastici. Dall'altra la prospettiva di un'area di 700 metri quadrati ricoperta di pensiline fotovoltaiche per ombreggiare il parcheggio e generare energia. Si sta parlando di pensiline fotovoltaiche che sono in programma è oggetto di un finanziamento ATUS che è un finanziamento regionale stiamo parlando di un importo di circa 1 milione e 400 mila euro di cui il comune cofinanzia solo una minima parte che è di 50 mila euro. Ci aiuta ad abbattere anche un po' quello che è l'isola di Calore rispetto non dico a quanto sarebbe una piantumazione ma ci aiuta perché questo piazzale è uno di quelli che non sono oggetto di piantumazione. E' probabile che l'intervento partirà l'anno prossimo e su un altro versante del piazzale di Viale Malta cioè l'accesso da Viale Palmerio il comune punta a sbloccare quanto prima il recupero dell'area di 3500 metri quadrati che ospitava l'ex caserma Zanardi Landi abbattuta un anno fa con il proposito della giunta Barbieri. Manca ancora un passaggio burocratico l'acquisizione da parte di Palazzo Mercanti della porzione di area ancora di proprietà demaniale e l'intenzione ora non è di ricavare 180 posti auto come promesso dalla precedente amministrazione. Noi dobbiamo riprendere quello che è il percorso ciclopedonale di via Palmerio e chiudere l'anello rispetto a via Malta. Riperimetrare secondo noi in una prima ipotesi di progettazione quello che è la linea della strada evitando quella che è una chicane, una S in ingresso e contemplare appunto un percorso ciclopedonale protetto con anche una fascia di verde di rispetto rispetto agli edifici vicini. Ciò che si avanzerà rispetto alle perimetrazioni alle geometrie viabilistiche saranno sì effettivamente potenziamenti di parcheggio. Sull'area accanto, sempre nel piazzale di Viale Malta ci saranno invece presto a partire dalla metà di settembre i posteggi a servizio dei docenti che si recheranno nei container del liceo Colombini.